Nei prossimi giorni si annunciano due sedute monografiche del Consiglio Comunale di Fano, quella dedicata al giorno della memoria, che si terrà il 23 gennaio alle ore 17.30 nella sala ipogea della Memo, e quella dedicata al giorno del ricordo, che si svolgerà nello stesso locale il 10 febbraio. Il giorno della memoria è dedicato alla Shoah, mentre il giorno del ricordo rievoca il dramma delle foibe, che costituisce un'altrettanta pagina nera del secondo conflitto mondiale. Quest'anno il giorno del ricordo verrà dedicato al ruolo occupato da Trieste alla fine del conflitto, fin quando nel 1954 fu decretata la sua definitiva annessione italiana, mentre quello della memoria sarà dedicato in particolare alle donne, alle donne deportate, seviziate, uccise. Due appuntamenti, il primo il 23 gennaio alle 17.30 alla Mediateca Montanari con la storica Marta Baiardi. Sarà l'occasione per ricostruire e approfondire una pagina non conosciutissima della Shoah, che cioè quella della deportazione femminile, che è una pagina che sta dentro ovviamente un contesto storiografico molto più ampio, che però riteniamo molto interessante approfondire. Il secondo appuntamento invece legato in questo caso alla giornata del ricordo sarà il 9 di febbraio, sempre le 17.30 presso la Mediateca Montanari, con un'altra storica, Vanessa Maggi, che invece approfondirà un aspetto, quello cioè del lungo limbo in cui è stata costretta la città di Trieste tra il 1945 e il 1954 nel territorio libero che, come dire, ricomprendeva non solo la città ma anche una parte di litorale che non era né Italia né Jugoslavia. L'amministrazione comunale cerca di organizzare questi eventi per tenere sempre vivo il ricordo e anche se sono forme istituzionali, però è molto importante per la città celebrare questi momenti dove c'è anche il coinvolgimento delle scuole, quindi è stato fatto un lavoro anche capillare dentro le scuole perché solo nei giovani, lavorando con i giovani, si riesce a trasmettere e non far perdere il ricordo di questi momenti tristi. Ci sarà anche una mostra, una mostra significativa? Sì, si tratta di una mostra realizzata dal Memorial della Shoah e che sarà inaugurata il 5 febbraio che parla di sport sportivi e giochi olimpici nell'Europa in guerra. proprio per vedere come lo sport e lo stesso olimpiadi siano oggetto strumento da parte dei totalitarismi, in particolare del nazismo, ma anche del fascismo, come siano utilizzati per portare avanti una propaganda razzista e una discriminazione.